Io non lo chiamerei lavoro, mi chiedo entusiasmo da parte della città, ma di tutti gli enti, di tutte le società sportive, dai genitori, gli allenatori. Allora penso che Marese sia connessuta in tutta l'Italia sicuramente, e anche forse anche in tutta l'Europa, perché sono venuti qua i russi, sono venuti i cicosolati, sono venuti i brasiliani, e tutti hanno un ricordo meraviglioso della nostra città giardino. Adesso c'è il Garbosi e c'è anche il Giovene Legende, sono due grandi tornei che vogliamo, io fino a cent'anni, e ci divertiamo ancora a farlo, e questo è dovuto ai miei amici. Non posso chiamarli collaboratori, ma ne hanno dei ragazzi che mi danno la mano, qualcuno di 70 anni, qualcuno di 55, noi che mettiamo solo quelli novantelli nel territorio, non tutti quanti. 45 anni di una festa sportiva a Varese, grazie a Paolo, grazie a tutti gli amici che da così tanto tempo continuano a proporre questo torneo, che è davvero una festa, una festa importante, una Pasqua diversa per Varese, per cui buon Garbosi a tutti, ancora una volta. Grazie a tutti.